Una collezione tematica di libri dedicata al professor Camillo Curioni, padre fondatore della chirurgia maxillofacciale in Italia. È quella che sarà allestita presso la Biblioteca di Scienza della Salute dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna. Curioni era un chirurgo cranio maxillofacciale, è stato il mio maestro per quasi 20 anni, che ha fondato la chirurgia maxillofacciale a Ferrara nel 91, è rimasto a Ferrara dal 91 al 96 e ha creato praticamente questa realtà. Professore di chirurgia maxillofacciale presso l'Università di Ferrara dal 90 al 97, Curioni ha donato la collezione privata di libri scientifici raccolta in 50 anni di attività. Quando in vita ha dato i suoi libri, circa 250 libri, alla Biblioteca di Ferrara e con l'aiuto proprio anche fisico del dottor Gallier, mio collaboratore, questi libri sono stati spostati dalla casa di Vicenza a Ferrara, dove i referenti della formazione ferraresi e leghini hanno in pratica messo in atto il catalogo di questa biblioteca. Un patrimonio scientifico rilevante che ha portato non solo all'istituzione di un fondo tematico importante, ma soprattutto alla costituzione di uno strumento utile all'aggiornamento e alla formazione dei futuri medici in campo maxillofacciale. La formazione è il modo più chiaro per investire sulle persone e fare formazione sulle persone che guardano al futuro non può dimenticare che abbiamo un passato, una storia ed è solo se la storia viene vissuta e viene posseduta che può essere utilizzata per crescere e anche l'iniziativa dell'archivio Chioroni va in questa strada. La crescita, lo sviluppo, la manutenzione delle competenze di tutti i professionisti che lavorano in questa azienda è un elemento chiave per questa azienda ospedaliera universitaria. Esistono diverse forme di formazione, dalla formazione interna che è orientata più alla crescita dei gruppi per la creazione, diciamo così, di mentalità condivise, ma anche la formazione fuorisede dove chirurghi, infermieri, fisioterapista possono anche andare all'estero e raccogliere quelle che sono le eccellenze a livello internazionale e trasportarle nel nostro contesto. Da questo punto di vista anche l'autoformazione, l'autoapprendimento è un elemento di grande valore in questo clima anche di tagli e la biblioteca ha un valore strategico. Il fondo che abbiamo denominato Curioni è arrivato in biblioteca a marzo del 2011 e la biblioteca ha proceduto prima di tutto al conteggio dei testi. Sono 270 volumi, abbiamo anche riscontrato che sono posseduti da poche biblioteche italiane, quindi alcuni documenti sono molto rari. Abbiamo proceduto anche ovviamente alla catalogazione dell'intero fondo e questo vuol dire che tutti i libri del fondo Curioni sono disponibili sia sull'Opac del Polo Unificato Ferrarese ma anche in indice SBN, quindi chiunque in Italia accedendo a questi due cataloghi può ritrovare i libri di Curioni. Significa la possibilità di attingere sempre a questi libri che sono fondamentali, sono libri anche molto costosi, alcuni di questi anche introvabili e quindi permettono di entrare nello storico della realtà della nostra disciplina. Ci sono diverse risorse che vengono rese disponibili online a tutti i dipendenti, ospedalieri, universitari convenzionati, parliamo di fino a 7.000 risorse online accessibili anche al computer di ogni singolo professionista dove reperire le recenti evidenze in ambito internazionale, quindi la produzione scientifica a livello mondiale. Non di minore interesse e conto è però il valore culturale della produzione storica e quindi da questo punto di vista il fondo Curioni rappresenta un grande valore è una grande risorsa culturale non solo per i dipendenti dell'azienda ospedaliera ma anche per tutti i cittadini che possono accedere attraverso il sistema bibliotecario ferrarese quindi con un click, un semplice click sul computer poter vedere il fondo Curioni, verificare le monografie che ci sono, che sono tutte in ottimo stato di conservazione e poterle visionare dopo essere venuti in biblioteca per l'accesso al prestito di queste monografie. Questi libri sono abbastanza settoriali come argomento però siamo convinti che possano anche interessare a tutti i cittadini che vogliono essere informati sulla salute e sono una serie di 270 volumi che vanno dal 1945 al 2004. Le risorse online sono circa 7.000 e diciamo che le possiamo suddividere tra riviste online, banche dati online e ebook, quindi libri digitali. Ci sono molte riviste cliniche internazionali, British Medical Journal, Lancet, Circulation, sono tutte le riviste, diciamo i core journal che raccolgono le massime espressioni di ricerca e di produzione scientifica in ambito sanitario che sono accessibili a tutti i clinici dell'azienda ospedaliera già da molti anni. Queste risorse sono accessibili sul catalogo, visibili e consultabili sul catalogo da chiunque 365 giorni all'anno 24 su 24 perché è un catalogo pubblico in rete quindi chiunque si connetta le può aprire. In verità però per riuscire a scaricare un documento di interesse bisogna ovviamente avere o una password o essere su un computer dell'azienda ospedaliera. Ferrara ha uno storico perché ricordo anche Ortolani, Ortolani nel 35 descrisse il segno di Ortolani e lui era un pediatra per la displasia congenita dell'anca quindi Ferrara ha uno storico di grandi nomi e Curioni appartiene a questi, anche lui ha contribuito a diffondersi di questa disciplina. Grazie a tutti! Grazie a tutti!